Ciao Salerniweb dalla ST Polisportiva Locubbia, sono Pier Davide Banariello, un istruttore delle categorie primi calci, pulcini e sordienti dove cerchiamo di insegnare prima di tutto i valori etici dello sport e poi le capacità tecnico-coordinative attraverso dei giochi, del quale facciamo divertire queste seguenti fasce d'età dai 2010 ai 2003. Ovviamente la nostra scuola calcio non ha solo queste seguenti età ma arriva fino all'anno 2000. Adesso lascio la parola al nostro direttore sportivo, il professore Pasquale Lupino, il quale vi racconterà un po' di cose della nostra piccola società. Buonasera, la nostra società è nata nel 1980 con una fusione con la Corrisa dove il presidente Passaro e la Locubbia Calcio già esistente fondarono a San Deustacchio per trattenere dei giovani locali desiderosi di fare attività sportive. Naturalmente la scelta fu sul calcio dove in poco tempo subito i ragazzi si prepararono, si addestrarono con degli istruttori diciamo locali. In seguito è sorta questa società proprio sul campus 24 maggio dove abbiamo allargate un po' i ranghi facendo oltre alle attività che poc'anzi vi ha detto il mister Panariello portando anche i giovanissimi e gli allievi. Quest'anno facciamo una scelta un poco diciamo più interregionale direi facendo trasferte verso la provincia di Salerno con il campionato o allievi. Adesso vi presento una figura storica del calcio salernitano, penso che un po' tutti lo conoscete, è il mister Sciacione da Pastena, giusto mister? Io ringrazio voi tutti che siete arrivati qua, di questa radio, televisione, non lo so, perfetto. Comunque nelle mie interviste vi ringrazio di cuore e cosa devo dire? Si continua la vita sui campi fin quanto il Signore lo vuole. Quando hai iniziato a fare sport? Ho iniziato nel 1945, sono 70 anni che faccio nello sport, 70 anni. Mi dice ma quanti anni tiene? Io sono 86, me lo posso dire. Ma io continuo a giocare, continuo ad allenare con i ragazzi, poi ci sono i miei allenatori che sono ancora bravi, giovani e belli. Non più di questo non posso dirvi. Un saluto a voi altri che siete arrivati e vi ringrazio di cuore. Un ringraziamento particolare a voi di Salerno in Web che ci siete venuti a trovare e spero che mi veniate a trovare al più presto possibile. Per i vostri utenti, se avete bisogno di informazioni potete trovarci sul sito www.polisportivalocubia.it oppure chiamando al numero 335-5334-086 per ogni tipo di informazione. Un saluto caloroso e sportivo dal ASD Polisportiva Locubia di Salerno a tutta la redazione di Salerno in Web.